Massimo Giletti Siamo! Stando alle ultime di gossip, Nunzia De Girolamo sarebbe ancora sposata con il deputato del Partito Democratico Francesco Boccia, ma le foto pubblicate da un noto settimanale di gossip chi lasciano dei grossi dubbi sulla solidità di questo matrimonio E se per il momento non sappiamo cosa c'è realmente tra Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo, possiamo dirvi che quest'ultima è pronta per affrontare una nuova avventura lavorativa. Infatti da sabato forse, 30 marzo 2019 l'ex deputata di Forza Italia sarà una dei concorrenti di Ballando con le Spine La conferma l'ha data la conduttrice dello show di Rai 1.000 Carlucci, ma qualche ora fa lo ha annunciato anche la diretta interessata attraverso il suo profilo Twitter. Ecco le sue parole su social, ora è ufficiale, sarò una concorrente di Ballando con le Spine. Il mio maestro sarà Raimondo Toda. Seguitemi e soprattutto votate. Oltre all'annuncio la De Girolamo in nessun il video che lo mostra con la Carlucci e Toda Riccardo .